Un passo non ancora decisivo, ma certamente importante, che accorcia i tempi della fusione tra Napoli e Salerno. L'ENAC e la Società di Gestione del Costa d'Amalfi hanno sottoscritto questa mattina a Roma l'accordo, annunciato nei giorni scorsi dal sottosegretario con delega alle infrastrutture Andrea Cioffi, che di fatto testimonia un ulteriore avanzamento burocratico del lungo iter autorizzativo per l'aeroporto di Salerno. Si tratta di un ulteriore passaggio propedeutico alla concessione definitiva, che di fatto consentirà l'avvio dei lavori per l'allungamento della pista e, a regime, la fusione tra il Costa d'Amalfi e Capodichino. Ora, sottolineano i sindacati, non c'è più tempo da perdere. Questa mattina è stato firmato l'atto aggiuntivo tra ENAC e aeroporto Costa d'Amalfi a Roma. Ora manca l'ultimo tassello, quel famoso tassello che più volte ne abbiamo richiamato, che è la firma per l'accordo interministeriale, che consente così del via libera all'atto definitivo per la fusione fra Gesac e Costa d'Amalfi. Ormai sono da più tempo che noi lanciamo questo chito d'allarme, una prossima stagione estiva è alle porte. Bisogna fare presto, bisogna finalmente arrivare a questa firma, così da poter dare il via libera definitiva a di lavori, alla cantierabilizzazione di questo aeroporto, al prolungamento della pista, alla messa in sicurezza della struttura, all'allungamento della metropolitana leggera, così come allo svincolo della tangenziale. Ormai veramente siamo quasi alla parola fine, riteniamo che deve esserci ancora più un'accelerata in questi ultimi giorni, così da definire finalmente il via libera al nuovo aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi-Ponte Cagnano.